Sono le 6 del mattino del 4 settembre 2010, è tutta notte che io ho sognato di questi argomenti e mi sono dovuto alzare presto, perché normalmente mi alzo due ore dopo, per raccontarvi una cosa importante che se non ve la racconto io non potrete mai più capirla. Dovete credermi quando io vi dico che in persona Dio, ossia l'unità del sistema onnipotente nel quale tutti quanti noi siamo compresi. E' un sistema onnipotente che prevede ogni possibile presenza e la cosa eccezionale sarebbe se in questa presenza, che poi appare a tutti noi attraverso il nostro modo personale di esistere, non esistessero anche le due persone uniche in tutta la creazione delle persone, tutte uguali e distinte tra loro, che impersonassero l'unità del sistema, visto dai due punti estremi del padre e del figlio. Il padre e il figlio dovete considerarli come il dieci e il dieci elevato a meno uno. Quando Gesù vi ha raccontato che l'accettazione della vita avrebbe avuto per ricompensa il centuplo qua giù, questa espressione ideale che esprime in modo compiuto e perfetto il centuplo come il massimo premio possibile per ciascuno di noi, corrisponde veramente ad una potenza, di una potenza, di una potenza, di una potenza, di una potenza, in cui ci sono in tutto, cento uno dieci. Uno di essi è alla base di cento altri, ossia abbiamo un dieci elevato a dieci, elevato a dieci, elevato a dieci, elevato a dieci, elevato a dieci e quando li contiamo tutti, abbiamo il numero di cento dieci come potenze e un dieci come la presenza della base. Ecco, questo è il sistema generale completo di tutta una esistenza che poi appare infinita. Appare infinita e lanciata nel tempo quando il sistema assoluto dieci, che essendo assoluto, è in sé comprensivo di tutto, anche tutto il tempo, si presenta nel modo unitario di nove parti a numeratore del denominatore uno. Quando dieci si divide per nove, dà luogo uno, 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 uno all'infinito. Questa visione che vi appare è la visione spaziale, ossia che vi mostra presente, nello stesso attimo di presente, tutto il tempo infinito, che essendo infinito è un risultato che non è mai finito perché per quanti decimali uno voi possiate aggiungere a tutta la fila, il numero è infinito. Questa è solo la visione spaziale del tempo, ma esiste anche un'entità trasversale che non è visibile perché come tutte le cause, esse sono viste solo negli effetti. La causa nove è all'origine di questo effetto 1,111 nella divisione di 10 diviso 9. È il 9 che causa l'infinita presenza nel tempo decimale, che noi vediamo, possibilmente scritto anche, come una sequenza di 1,11111 che esistono tutti, ammesso di poterli vedere. Ecco, nella sezione trasversale, a livello del primo valore diviso, c'è una sezione che vale 3 per 3. A livello della seconda sezione, quella corrispondente al valore decimo, la sezione non vale più 3 per 3, ma 33 per 33. Alla terza cifra ci sono tre cifre del 3, cioè 333 per 333 e così via. A mano a mano sezione che la cifra diventa la quarta, la quinta, avremo 4,3, 5,3 e tutto ciò porta nel giro di tre operazioni a un intervallo tra un tempo di divisione e quello successivo che presto assume il valore di 100 virgola e un valore di divisione che è sempre quello, ma sempre più dilatato da una quantità di 0 che progressivamente si aggiungono e dilatano le cifre diverse da 0. Vi ho spiegato che in questo modo la percezione che noi abbiamo la possiamo vedere nel risultato 1,11111, ma questo è il tempo e come tutto il tempo noi possiamo rappresentarlo, ma non lo vediamo. Infatti dobbiamo considerare che questa divisione 1,11111 non è collocata nel piano perpendicolare alla nostra vista, ma secondo la direzione dell'asse profondo della vista, perché alla nostra vista reale esiste il piano che nel primo tempo è 3 per 3, nel secondo è 33 per 33, nel terzo è 33 per 33, ma vi ho raccontato che dopo appena tre tempi di divisione il piano assume la dimensione 100 data da 10 per 10 e poi ci sono una quantità di numeri che intervengono. Quando una visione è ottenuta in questo modo in cui l'intervallo tra una sezione e quella successiva è determinata da un certo incremento, sempre costante, noi abbiamo la visione di un frattale. Voi avrete visto tutti quanti i frattali come sono fatti, che immagini presentano? Che immagini presentano? Proprio quella di un universo in progressiva crescita, ma è una crescita che rappresenta in un certo modo un nostro avvicinamento alla realtà osservata, un avvicinamento sempre più profondo, come se noi viaggiassimo nell'universo e ci avvicinassimo sempre a livelli più piccoli all'interno di questo universo, fino a focalizzare la nostra attenzione su un unico pianeta, la Terra, nel quale siamo tutti compresi e poi alla definizione successiva che nell'ultimo stadio vi presenta a tutti voi osservatori, ci presenta a tutti noi osservatori, quel frattale che è il mondo che stiamo vivendo e che stiamo vedendo. Noi stiamo assistendo veramente alla visione frattale dovuta alla frazione 10 diviso 9. È un risultato unico, perché dalla divisione di 10 diviso 9, per quanto essa sia infinita, il risultato è uno e uno solo, ma assume la possibilità di essere visto in un modo infinito. Ecco, attraverso questo sistema operativo Dio ha creato la possibile percezione del mondo.